Oh, terza B? Vai! Psst! Quante materie hai sotto? Ma... Normale... Oggi c'ho il compito in classe Io non so niente Io ho anche 5 materie sotto Mi sa che quest'anno mi bocciano Oh, mi raccomando, l'introduzione succedisce Insomma, se mi hanno bocciato, i miei mi uccidono Per domani c'è da fare quattro versioni di latino Mi sono dimenticato di compiti a casa Mi ha sgamò ai bigliettini Mi ha chiamato a sorte Non sapevo niente Oh, ma secondo te? C'è fuori o per italiano? Ma io a matematica c'ho quattro Cavolo, la giustificazione non l'ho portata Il prof mi ha dato un rapporto Oh, da mia tumulazione non c'ho storia Se quest'anno non mi impegno, mi seggano di voi Ho fatto scena un muta Nooo Quella stronza mi ha dato tre Cavolo, la giustificazione non l'ho portata Mi ha chiamato a soldare 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 Allora, vuoi parlare? Che culo, pensavo di essere tornato a scuola Se ne ho fatto il bagno Emilio Chi è? So Bertelli, mi fai entrare? No, serve la giustificazione caro Ma sono arrivato in ritardo, ho fatto usare il bus Eh, mi dispiace, a domani, ciao ciccio